Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it Continuiamo a parlare di disturbo digitale, di rumore, video o come rimuoverlo utilizzando un plugin Plugin chiamato Neat Video, un plugin non gratuito, è un plugin a pagamento Ma sul sito del produttore è possibile trovare una versione demo con cui potete giocare, sperimentare Ed eventualmente poi scegliere di acquistare questo software Vi ricordo però prima il mio sito internet www.fabianbrosi.it Sito dove troverete gli argomenti di questo corso introduttivo ad Adobe Premiere Troverete anche un corso introduttivo ad After Effects, corso appena iniziato Quindi fatevi una capatina e iniziate a vedere le lezioni se siete interessati anche ad After Effects Vi invito se avete voglia ad iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial Se vi fa piacere cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare è Fabio Ambrosi Lì troverete tutti gli aggiornamenti del sito internet con i video tutorial a mano a mano che verranno prodotti Nuovi corsi e nuove iniziative Bene, torniamo a Premiere Parliamo di Neat Video, plugin utilissimo per migliorare la qualità delle nostre immagini Quando ci troviamo in presenza di grana di disturbo digitale Spesso capita di dover lavorare con delle clip girate in condizioni non proprio ottimali Un buon montatore video, prima ancora di lamentarsi, deve cercare di risolvere nel minor tempo possibile E con la qualità maggiore possibile Queste due cose spesso non vanno di pari passo ma ecco, l'obiettivo a cui mirare è quello Il plugin che utilizzeremo, ripeto, è un plugin payware, non è gratuito Si trova su internet, c'è il sito internet Il link lo trovate nell'articolo di questo video tutorial sul sito fabbembrosi.it O nei commenti nella descrizione di questo video tutorial Questo è il sito internet del plugin di cui stiamo parlando Si chiama Neat Video e come potete vedere da questa dimostrazione già presente in home page Il lavoro di questo plugin è davvero eccezionale Perché riesce a migliorare disturbi anche importanti delle immagini con pochi click Guardate questo con un'immagine con un timelapse Il lavoro eccezionale che si riesce a fare Ovviamente il mio consiglio è quello sempre di lavorare bene Quando girate il vostro video Evitando poi di dover perdere tempo in post produzione Però se, come abbiamo detto, il vostro materiale ormai è così L'unica cosa da fare è cercare di recuperare il lavoro Dicevo, il plugin è a pagamento Non è gratuito Il costo non è esagerato Parliamo di un prezzo che parte dai 74 dollari, 75 dollari Quindi all'incirca 60-65 euro È disponibile per diverse piattaforme Per After Effects, Premiere, Final Cutter, Resolve, quindi Da Vinci Avid, Media Composer, Sony Vegas, eccetera eccetera Noi siamo interessati a Premiere Abbiamo due versioni Una Basic Per un uso, diciamo, non commerciale E limitato ad una risoluzione di 1920 pixel per 1080 Quindi per l'HD E una versione un pochettino più evoluta Che ci permette di manipolare anche video di grandissima qualità E di sfruttare soprattutto Anche le possibilità, le capacità Delle più moderne ed evolute schede grafiche Il prezzo è leggermente superiore Parliamo di 129-130 dollari All'incirca un centinaio di euro Però ecco, se siete dei professionisti del settore È un plugin questo che sicuramente dovete valutare di acquistare Dicevo, è possibile scaricarlo in veste gratuita Come prova, come demo Basta cliccare nella pagina download Scegliere la piattaforma Premiere Scegliere il vostro sistema operativo E scegliere di scaricare questo plugin Che comunque anche in versione demo È una buona dimostrazione di quello che può fare O non può fare con le nostre immagini Torniamo ad Adobe Premiere Vediamo come utilizzare il plugin È piuttosto semplice in realtà Anche se un uso più avanzato è possibile E sul sito internet del plugin Esistono molti video tutorial Per approfondire l'utilizzo di questo software La prima cosa da fare è selezionare la clip video Su cui vogliamo applicare il nostro plugin Scegliere tra gli effetti video Il plugin Neat Video Noi cerchiamo la parola Neat Eccolo qui Applichiamo la nostra clip E come potete vedere Questo effetto viene aggiunto Al nostro pannello controllo effetti Clicchiamo su Prepare Per preparare il video In questo momento Neat Video Sta analizzando il nostro fotogramma Clicchiamo poi su Build Viene aperta questa interfaccia grafica È un'interfaccia grafica In cui noi possiamo innanzitutto Vedere la situazione della nostra clip video Vedete qui in basso Degli ingrandimenti Che dimostrano quanto questo video Si ha rovinato in realtà Scegliamo una selezione di immagine Da utilizzare come riferimento Per il plugin Per tentare di rimuovere la grana La selezione che facciamo Deve essere sufficientemente grande Per intenderci Non possiamo fare una selezione di questo tipo E deve essere uniforme Vale a dire come potete vedere Qui l'immagine Non ha sfumature di ombra Sfumature di luce O sfumature cromatiche Quindi va bene Ma se io scegliessi Non so Questa porzione di immagine Non andrebbe più bene Perché chiaramente qui stiamo Il software non ha gli elementi necessari Per poter creare Una buona analisi del fotogramma Quindi dicevo Scegliamo una porzione di immagine Possibilmente la più rumorosa possibile Vedete qui un livello di rumore Un indice che ci dice Quanto questa selezione Contenga rumore Chiaramente più è basso Quest'indice Meno rumore è presente Quindi scegliamo una porzione di video Con un indice di rumore adeguato Quanto pare questa è la porzione più corretta Da selezionare Fatta questa operazione Clicchiamo sul bottone Build profile In altre parole Qui il software Il plugin sta analizzando L'immagine Andiamo su profile check Qui in alto sulla destra E a questo punto potete vedere Che già qualcosina è stata fatta Vedete già che L'immagine è stata Un pochettino migliorata Rispetto a com'era prima Clicchiamo su quest'altra tab Adjust and preview E possiamo vedere Qui che abbiamo Sulla destra A disposizione Tante altre Opzioni Altri valori Con cui è possibile Giocare Per migliorare Ulteriormente Questa clip video Se io clicco su questa preview Posso vedere Come era l'immagine Rilascio il mouse E vedo come viene Trasformata Ora non so Se con la comprensione video Di questa clip Su youtube Voi riusciate a vedere La differenza In maniera chiara Ma guardate qui in basso Così è come adesso Dopo l'intervento del plugin Così è come era prima Vedete che il plugin Fa già Di per sé Un ottimo lavoro Possiamo Andare a modificare Un po' di parametri Cercando di Migliorare ancora Ulteriormente L'immagine Attenzione a non esagerare Perché altrimenti Poi i tempi di rendering Aumenteranno Sensibilmente Quando siete soddisfatti Cliccate sul bottoncino Apply Qui in basso Sulla destra L'effetto viene applicato Vediamo La clip video Senza il plugin E con il plugin Così è con il plugin Vediamo Andiamo un pochettino di più Dicevo Così è con il plugin E così era senza plugin Vedete che C'è già Di default Un buon Un buon lavoro Ovviamente io non ho Lavorato molto Con le opzioni Forse bisognava perderci Un pochettino Più di tempo Però come dicevo prima Sul sito internet Di Neat Video Sono presenti Molti video tutorial Preparati direttamente dagli autori Del plugin Che vi potranno aiutare A capire come utilizzare Questo software Molto 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 utile Solo una raccomandazione importante Prima di lasciarci Abbiamo parlato Nelle scorse lezioni Negli scorsi video tutorial Della color correction Bene Questo plugin Se dovete applicarlo Dovete applicarlo Prima Degli effetti Di color correction In altre parole Prima Premiere Deve lavorare L'immagine Correttamente Poi applicate La color correction Che volete Altrimenti potreste avere Dei problemi Con le immagini Potreste vedere Degli artefatti O Dei fastidiosissimi Effetti di flickering Che possono vanificare Il vostro lavoro Bene Mi fermo qui Per il momento Nel prossimo video tutorial Inizieremo a parlare Finalmente Di grafica Grafica In Adobe Premiere Pro Come inserire Titoli Come inserire Anche delle semplici Forme geometriche Tra breve Vedremo anche Come lavorare Con la grafica Essenziale Di Adobe After Effects Per creare Semplici Sottopancia Poi modificabili Direttamente In Adobe In Adobe Premiere Continua Il corso Di montaggio video Continua anche Il corso Di After Effects Lo trovate Sul sito Internet www.famera.com FabioAmbrosi.it Se vi fa piacere Iscrivetevi A questo canale YouTube Cercatemi su Facebook La pagina È Fabio Ambrosi Ovviamente Commentate questi video Se avete domande L'unica cortesia Che vi chiedo Non scrivetemi In privato Su Facebook Anche sulla pagina Non perché Non voglia rispondere Ma perché Credo che sia più utile Rispondere alle vostre domande Ai vostri dubbi In pubblico Tra i commenti Così che anche Altre persone Possano Trovare beneficio Dalle vostre domande Magari anche altri Possono intervenire Per dare delle risposte Più complete Magari delle mie E basta così Nel prossimo video tutorial Continuerà il corso Di Adobe Premiere Pro Grazie ancora Buon proseguimento Ciao Ciao